Oggi è il 2012 2016, sono Paolo Pesino, il fondatore del tradingportuti.com e benvenuti alla consueta videoanalisi con rilascio dei livelli chiavi per la giornata intraday di forex, indici e commodity. Come sempre partiamo da il disclaimer, gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Come sempre partiamo dal calendario economico, intanto benvenuto a Michele. Non c'è nessuno stamattina, strano. Allora, questa notte abbiamo avuto rilascio del tasso di interesse americani, giapponesi, vi chiedo scusa, il tasso di interesse che è rimasto assolutamente invariato, quindi meno 0,10%, il mercato l'ha interpretato ovviamente alla sua maniera, sostanzialmente nella giornata di ieri hanno acquistato yen e da oggi sembrerebbe che sia tornato tutto come nei giorni scorsi, da quel poco che ho visto al volo, quindi vendita di yen, staremo un po' a vedere. La giornata andrà via abbastanza tranquillamente perché non ci sono news al momento importanti che possono andare a muovere il prezzo. Ovviamente un pensiero va alle vittime dell'attentato di ieri in Germania. Ma veniamo al motivo per cui vi siete collegati che ovviamente è il rilascio dei livelli chiave. Allora, sostanzialmente il prezzo ieri ha fatto un po' il ballerino, quindi su e giù. I livelli non sono molto differenti da quelli di ieri. Per quanto riguarda Euro-Dollar abbiamo con la rottura di 1,03,64 la possibilità di andare alla ricerca di posizioni al ribasso. Invece per quanto riguarda la rottura di 1,04,16 la possibilità di andare alla ricerca di posizioni al rialzo. Per quanto riguarda usd-cad è molto facile vederli al volo. Quindi rottura di 1,34,16 per la ricerca di posizioni al rialzo e invece rottura di 1,33,92 per andare alla ricerca di posizioni al ribasso. Per quanto riguarda i usd-yen, vedete per chi magari mi sta seguendo per la prima volta, questo qui è il mio modo di fare trading grafico pulito, quindi senza 180 oscillatori che creano problemi, bandi di bollinger, il mondo dentro al grafico, supporto resistente, naturalmente ha valorato il tutto dall'analisi ciclica, assolutamente, che mi permette, che mi dà quella possibilità di cercare, quantomeno di avere una possibilità in più di sapere da punto di vista temporale se è più corretto andare a cercare un'operazione long o short, quando poi l'analisi tecnica ci dice, guarda che adesso il trend rialza, dobbiamo entrare qui o dobbiamo entrare là. Usd-yen, dopo la discesa di ieri sul rilascio dei tassi di interesse è letteralmente decollato, quindi come dicevo è tornato tutto come era prima, infatti ieri sera volevo mettere un ordine pendente long, ma non me la sono sentita per i tassi di interesse, il trend ormai l'ho perso, quindi non lo prendo più, per la giornata di oggi vediamo se poi questa sera ci sarà possibilità di prendere posizione, comunque posizioni short con la rottura di 117 e 85 non mi dispiacciono, casomai questa sia soltanto un fuoco di paglia, anche se non credo perché ha rotto tutto quello che c'era da rompere, per darci sostanzialmente la visione o la visuale, chiamiamola un po' come meglio crediamo, che la fase di ribasso è assolutamente terminata ed è ricominciata la fase di rialzo di usd-yen, posizione rialzo, beh io aspetterei che il prezzo eventualmente vada a ritestare, semmai ci andrà 117 e 85, qualora non ci vada, amen, si perde tutto il long di usd-yen per la giornata intraday, problemi non ce ne sono nel modo più assoluto, in realtà qui abbiamo tutta una serie di livelli che si potrebbe anche prendere, il livello dove siamo adesso sostanzialmente, purtroppo ovviamente non abbiamo storico perché siamo sui massimi di gennaio di quest'anno, quindi non riesco ad avere uno storico sull'H1 da poterlo andare a vedere, proviamo un po', riduciamo tutto, se ci permette di andarlo, no, assolutamente no, niente, non riusciamo a identificare, oh sì, 118.07, un po', sì, è qua, siamo, eccolo qua il livello dove ci stiamo fermando adesso, sì, ci sta una rottura di 118.07, per un long andiamo ad aggiungerlo con raggiungimento poi eventualmente di 118.39, quindi 118.07, perfetto, allora GBPUSD per l'intraday, ci ha già provato in realtà a rompere il livello per la ricerca di posizione al ribasso, non lo andiamo a selezionare lo stesso, 123.74, un bel livello per andare a cercare posizione al ribasso, così come la rottura di 124.07 potrebbe darci un bello spunto per cercare posizioni al rialzo, GBP CAD, non sto a girarci tanto intorno, le rilascio direttamente i livelli, GBP CAD, posizioni al, qui però non si capisce niente, talmente laterale, 1.65.95 potrebbe essere un livello interessante dove cercare posizioni ribassiste, come sempre io consiglio di aspettare per chi di voi è abituato a seguirmi, non sa, è un ritracciamento, un ritest da parte del mercato per essere sicuri di quantomeno filtrare il più possibile i falsi breakout che sono l'ordine del giorno, l'esempio è USD Yen di ieri, USD Yen di ieri ha rotto il livello per entrare long, ho aspettato che si verificasse la falsa rottura e abbiamo preso lo short con il gruppo, poi per carità ci ha preso breakeven, il malefico, quindi siamo usciti a zero, in realtà poi ci sono rientrato, però aspettando quella abbiamo evitato un, diciamo, uno scherzetto da parte del mercato che spesso e volentieri fa, posizioni invece al rialzo con la rottura di 1.66.35, mi raccomando fate sempre attenzione ai livelli successivi e calcolate che ci sia lo spazio per poter lavorare, quindi un rischio rendimento che sia favorevole, ok? Euro Yen, per quanto riguarda Euro Yen, posizioni al ribasso le andrai a prendere con la rottura eventualmente se ci sarà di 122.58, quindi questo livello, questa rottura, 122.58 e posizione a rialzo che sarebbe quella forse più corretta in questo momento, la potremo andare a cercare eventualmente con una rottura, però rischiamo di non avere spazio a sufficienza, comunque di 122.77, mi raccomando massima attenzione però, GBP Yen, per quanto riguarda GBP Yen, fotocopia di Euro Yen, non c'è nessun tipo di differenza, con la differenza che qui non abbiamo spazio per cercare posizione a rialzo, invece per posizione a ribasso assolutamente abbiamo uno spazio di 146.034 come livello per cercare posizioni a ribasso, in realtà il long si potrebbe anche cercarlo qua dove siamo adesso, in caso mai magari il prezzo andasse a ritestare poi il livello, quindi segniamolo 146.034 in caso di ritest, quindi che ne so, il prezzo va su, torna giù, allora potremmo anche qui cercare posizioni rialziste, la trendline lo sta accompagnando assolutamente a rialzo il prezzo su questo, non ci sono dubbi, Euro GBP bloccatissimo, in una lateralità che al solito rende intradabile, cioè intradabile no, ma quasi impossibile tracciare livelli di supporto e resistenza che abbiano logica, comunque direi posizioni a ribasso si potrebbero cercare con la rottura di 0.83.67, occhio perché non c'è spazio, non c'è spazio vuol dire che dopo pochissimo abbiamo tutta una serie di livelli che molto probabilmente andranno a bloccare la discesa del prezzo, quindi potrebbe iniziare poi una fase del genere, un rientro e un massacro, un massacro perché è evidente che comunque essendo in una fase di super lateralità, che più lateralità non si può, il prezzo sembrerebbe stia tentando di nuovamente rientrare qua dentro, quindi noi cosa facciamo? Cerchiamo eventualmente di cavalcare questa lateralità, quindi 0.83.67 diventa anche un livello per cercare posizioni al rialzo e 0.84.23 diventa un livello per cercare posizioni al ribasso, scusatemi le sto scrivendo sul foglio excel, peccato che non riesco a schiacciare neanche i tasti, ok, però una rottura eventuale di 0.84.23 ci darebbe anche la possibilità di cercare posizioni al rialzo, non direttamente perché è lo stop loss assicurato. New Zealand USD, direi per quanto riguarda New Zealand USD, beh è evidente ancora la fase di ribasso del dollaro neozelandese, non è tanto il dollaro neozelandese ma è il super dollaro che sta ovviamente schiantando tutte le valute contro di esso, quindi operazione al ribasso, quella rottura di 0.69.12, sempre attenzione che ci sia spazio però mi raccomando ragazzi, per lavorarlo non mi stancherò mai di dirlo, posizione al rialzo, quella rottura di 0.69.29. Audi USD, ovviamente in caduta libera anche Audi USD, posizione al ribasso con la rottura di 0.72.39, posizione invece al rialzo, non abbiamo purtroppo possibilità credo, 20 pip è difficile, lo rilascio al livello 0.72.63 però lo schifo, scusatemi mi è scappato, è il fatto che non abbiamo tanto spazio per poter fare trading perché abbiamo una ventina di pip scarsi, la media candele più o meno è di 8, vabbè no, se si aspetta eventualmente un ritracciamento oppure rimane un po' rischioso come trade, perché se la candela brecca e ci chiude a metà canale chiaramente non si può più entrare, però il livello è sicuramente quello lì, New Zealand CAD, tutti i mercati ormai si sono imballati, siamo a fine anno, salvo qualche news strana e improvvisa direi che possiamo considerarlo abbastanza ormai la costante, a parte che è da 6 mesi che il mercato è in laterale se non di più, quasi tutti i mercati sono piazzati in questa maniera, anche se qua magari può sembrare esserci un trend, in realtà è evidente che i mercati vabbè tranne alcuni, comunque hanno passato la maggior parte del loro tempo imballati in un modo vergognoso che hanno reso difficile lavorare, guardate adesso qua gli ultimi 4 giorni se questo è, ha senso una roba del genere, vabbè, altro che prendere gli stop loss sul beli. Allora 0,92 e 68 un bel livello per cercare posizioni al ribasso e invece 0,92 e 95 un buon livello per cercare posizioni al rialzo, andiamo a vedere Euro New Zealand, ovviamente anche lui completamente inchiodato in una situazione difficile da poter identificare, direi posizione al rialzo con la rottura di 1,50 e 14, quindi questa rottura, posizione al ribasso, qui non c'è niente, qui non c'è niente, potrebbe essere questo, un buon livello, lo ha già in realtà rotto, per lo short non avrei indicazioni perché non so veramente dove, vabbè, sennò qua si, qua ci si può andare anche a inserire, qua così, quindi direi 1,49 e 89 per la ricerca di posizioni al ribasso e un buon livello, USD 10HF posizione al rialzo con la rottura di 1,02 e 92, però vedete, fate attenzione perché ci sono questi livellini qua, che sicuramente romperanno tantissimo le scatole, andiamo a evidenziare, quindi massima attenzione a tal proposito, short, non lo valuterei assolutamente, se non dopo la rottura di 1,02 e 38, quindi questo livello qui, 1,02 e 38, AUD CAD, per quanto riguarda AUD CAD, ovviamente anche lui bloccatissimo in una lateralità brutta, molto brutta, non c'è spazio per cercare posizione al rialzo, se non con la rottura di 0,97 e 57, quindi parecchio lontane da dove siamo adesso, posizioni short, beh, quelle le andremo a valutare, vediamo se c'è possibilità sembrerebbe di sì, con la rottura di 0,97 e 0,1, quindi 0,97, poi il livello, come dico sempre, io leggo quello che mi riporta chiaramente il livello, poi ognuno di voi lo vada a mettere proprio preciso preciso, poi sul proprio grafico, ovviamente, per gli amanti del messicano short con la rottura di 20.34,64 si potrebbe andarlo a cercare, assolutamente, e invece posizione al rialzo si potrebbero andare a cercare con la rottura di 20.4179, ok, gold, ha tenuto molto bene, guardate ci ha provato parecchie volte, decisamente qui è proprio bello quello che si vede in questa maniera, questo intanto leviamolo perché tanto questo è un conto a 0, quindi non verrà mai eseguita l'operazione sicuramente, come ormai voi sapete anche le analisi preferisco eseguire su un conto reale, un conto reale dove non ho mai versato nulla, e allora qui a volte faccio le prove per calcolare i valori dei pips, per controllare che i miei fogli excel siano sempre aggiornati e corretti, allora per quanto riguarda il gold, dicevo che mi piace questa cosa che si vede, scusate do una pulita, aff cavolo è nero, è vero, allora facciamo così, lo mettiamo come era, ci mettiamo questo, ritracciamo un attimo i livelli, interessante messo così, questo è anche un bel livello, si, così mi ispiro, quindi se ci mettiamo qua così dovrebbe più o meno allinearsi, ok, quindi darci l'idea, infatti lo si vede bene, adesso bisogna vedere che cosa ci dirà, cosa dirà, perché ciclicamente è finito un ciclo, sta per iniziare un nuovo ciclo, è evidente, a un mese, tra l'altro ciclo di un mese all'incirca, quindi anche preciso, stiamo a vedere se sarà un nuovo ciclo al rialzo o un ciclo al ribasso, visto che comunque il trend sembrerebbe avere girato decisamente al ribasso, ma decisamente stiamo un po' a vedere, comunque in entrambi i casi, poi valuterò successivamente, ma tecnicamente rottura di 1132.68 per uno short, e invece rottura di 1134.95 per un long, andiamo a vedere il VTI, quindi il petrolio, cambio di contratto, quindi grande gap, ovviamente, per ora non è ancora andato a chiuderlo, non è ancora andato a chiuderlo questo gap, direi, posizioni a rialzo, beh, allora siamo un po' su un livello che li fa un po' tutti, posizioni a rialzo, li potremo andare a cercare, vorremmo vedere se riusciamo ad aggiustarlo un po' di più, con, ad esempio, una rottura, però ci ho provato tante volte, potrebbe essere un po' una fregatura, comunque la rottura di 53.16, ovvio che, allora, 53.16 per un long ci può stare, come ricerca di operatività, anche se l'operatività migliore la potremmo trovare andando a rompere 53.45, grazie Roberto di averlo ricordato, invece posizioni al ribasso, sto facendo un casino, posizioni al ribasso le potremmo andare a cercare con la rottura di 52.80, ricordiamo un po' quanti sono i pollicioni, vabbè, non mi posso lamentare, certo che non li hanno cliccato tutti, però, per quanto riguarda il Brent, beh, il Brent è un gemello, lo si può vedere decisamente, ma decisamente bene, è proprio un gemellino del crude oil, ok, quindi per il Brent, posizioni, anche il Brent è piazzato uguale, qui però rimango un attimo più tranquillo, nel senso che, posizioni al rialzo, anche qua non ci siamo, o ci prendiamo questa specie di lateralità qui, così, buongiorno Franco, magari una cosa del genere, ci potrebbe stare, quindi posizioni al rialzo con la rottura di 54.97, e invece posizioni al ribasso con la rottura, ovviamente, di 54.71, il trend è, in questo momento, indubbiamente orientato al rialzo, quindi a voi la scelta, Fuzzimib, andiamo a vedere l'indice di casa nostra, pazzesco, veramente disumano quello che vediamo, banche che stanno fallendo, Monte dei Paschi di Siena che deve essere iniettata da parte dello Stato, un disastro, che più disastro non si può, debito pubblico è aumentato a dismisura, nonostante il buon governo di prima continuasse ad affermare, non che sia cambiato qualcosa adesso, continuasse ad affermare che tutto era eccezionale, in realtà disastro, che più disastro non si può, nonostante tutto l'indice è veramente su livelli micidiali, quindi posizioni a rialzo, beh, rottura del mitico 19.051, sicuramente da lì non si scappa, e invece posizione a ribasso, con la rottura di 18.745, qui ci ho provato più di una volta, non riesco neanche a trovare un'analisi ciclica, che abbia la sua logica, forse potrebbe essere questa qui, adesso è molto rapida, nel senso che non sto a guardare quella superiore, che comunque è fatta da un'altra parte, così tutto sommato ci sta, in realtà anche dal punto di vista della sua estensione, corretto il prezzo dove è arrivato, potrebbe essere il momento per andare a cercare posizioni a ribasso, è evidente che il numero di periodi non è 1, ma è 1,2, ma è 3, in questo caso siamo ben oltre, però i livelli ci stanno, tutto sommato, ciao Emanuele, andiamo a vedere il DAX, DAX sta ormai per rompere un altro livello importante, che è 11.446.1, che è il livello per andare a cercare posizioni a rialzo, così come invece posizioni a ribasso, le cercheremo con la rottura di 11.369.4, quindi un bel livello per cercarlo, infine l'SMP, stamattina siamo andati via veloci, SMP rottura di 2264.31, e per il long ovviamente per cercare posizioni a rialzo, e invece rottura di 2260, facendo tanta attenzione, 2260.84, per andare a ricercare posizioni a ribasso. Vi invito a scrivervi la mia newsletter, ragazzi quando vi collegate al sito, vi compare il pop up per iscrivervi la newsletter, riceverete tutte le mie analisi direttamente, sulla vostra casella mail, e anche eventualmente iniziative, che possiamo ottenere, durante la settimana o il mese. Vi auguro la buona giornata, appuntamento mi raccomando, domani mattina alle 9, io fino all'ultimo giorno disponibile lavorerò, quindi non mi prendo 10 giorni di pausa, 15 giorni di pausa, perché non è corretto, anche se me lo meriterei sinceramente, quindi comunque appuntamento domani mattina, mi raccomando alle 9, i pollicioni per cortesia, e condividete poi la registrazione sui social, grazie, vedo i pollicioni che ci sono, fantastici. Ciao a tutti quanti ragazzi, grazie di tutto, e buona giornata, ciao ciao.